Le incognite che si concentrano sul servizio rifiuti sono ancora tante a Palazzo di Città. Sia il sindaco Lucio Greco che l'assessore Cristian Malluzzo attendono riscontri dalla SRR4 ma anche dalla regione. Il parere sulla possibilità di una gara autonoma dal servizio in aus è fondamentale, lo spiega anche l'assessore Malluzzo. In municipio sono in attesa di riceverlo. Su una nuova proroga a Tecra, per ora non ci sono certezze, secondo Malluzzo, si va avanti con il servizio attuale. Nel corso di questa settimana i mezzi per lo spazzamento sono stati concentrati nella zona di via Recanati e nelle aree limitrofe. La prossima settimana invece toccherà zone come quelle di via Madonna del Rosario e via Australia. Malluzzo spiega ancora che non è possibile parlare dei tempi necessari per l'avvio del nuovo servizio senza conoscere il contenuto del parere. L'azienda Campanatecra alcune settimane fa ha però fatto pervenire una nota ufficiale ai comuni della SRR4 invitandoli a definire l'avvio del nuovo servizio in aus affidato alle impianti SRR senza ricorrere a nuove proroghe. In città le prospettive non sono così chiare. Lunedì il sindaco Lucio Greco ha fatto il punto della situazione con la sua maggioranza anche sul servizio rifiuti. Ci sono diversi consiglieri che non escludono il sì al servizio in aus anche se il sindaco ha sempre spiegato di non esserne convinto. I tempi però stringono e se dovesse arrivare un parere non favorevole alla gara il servizio in aus sarebbe la soluzione più a portata di mano anche per evitare altre proroghe. Secondo Malluzzo se non dovesse esserci la gara allora i tempi di avvio del nuovo servizio saranno definiti dalla impianti SRR e non dipenderà tutto direttamente dal comune. L'assessore e il sindaco sembrano muoversi lungo un percorso amministrativo condiviso anche se i primi approcci non sono stati così agevoli. È stata definita una programmazione per gli interventi di pulizia nei quartieri ed è stato il sindaco a volerlo. Malluzzo parla di una linea che condivisa e si va avanti anche in attesa appunto del parere. Durante il vertice di lunedì diversi esponenti di maggioranza hanno fatto capire che anche l'opzione del servizio in aus non sarebbe comunque da interpretare come un passo indietro anche politico. C'è chi ritiene infatti che per tentare la soluzione della gara il sindaco e l'amministrazione comunale hanno fatto tutto quello che era possibile.